Torna la scuola in presenza tra le incognite legate ad un'organizzazione e gestione normativa particolarmente complessa. Abbiamo chiesto al comprensivo commenda di Brinisi come è stato affrontare questo nuovo primo giorno di scuola, con la scelta, così come altri istituti, di posticipare di due giorni l'avvio della didattica a distanza per avere un quadro complessivo delle esigenze della scuola e delle famiglie. La risposta in questo primo giorno è comunque stata di un'alta partecipazione in presenza. Chiaramente le famiglie sono disorientate perché essere chiamate a fare una scelta di questo genere sicuramente non è semplicissimo, quindi hanno sentito sulle loro spalle questa grande responsabilità. Ripartiremo poi con i collegamenti da mercoledì 11 novembre, proprio perché abbiamo dato alle famiglie questa facoltà di esprimersi in 48 ore di tempo, in modo che anche ci potesse essere un'organizzazione sicuramente più proficua ed efficiente. Rispetto a quella che è stata la giornata che si sta appena concludendo, nella nostra scuola abbiamo avuto comunque un'alta percentuale di frequenza. siamo intorno al 70%. Nodi che riguarderanno la pari opportunità per i bambini che sono in presenza e a distanza e nodi che riguarderanno soprattutto anche l'ambito valutativo degli stessi. È a tantissime difficoltà e posso dire mette anche in crisi quello che è il progetto educativo. Non solo la didattica in presenza e la didattica a distanza non si equivalgono e chiaramente nei giorni a venire si presenteranno anche tanti altri nodi che verranno al pettine. Complessivamente siamo ad una popolazione scolastica di oltre 1500 persone, noi abbiamo avuto complessivamente tre casi positivi. Quello però che vorrei sottolineare è che effettivamente non ci sono stati poi all'interno della scuola, non sono stati riscontrati i contagi dei contagi, perché poi tutte le altre persone che sono state messe in quarantena effettivamente sono risultate negative. Grazie a tutti.